Siamo ancora vivi, ma com'è? Ho usato il caos per salvarvi! Dovresti tornare in uno di quei gusci di stasi, ho rischi di restare così. E durante il tuo riposo sono sicura che saprò trovare un modo per guarirti da questa piaga. Tranquilli, non serve. La mia maledizione in realtà è una grazia. Ho guardato alle cose nel modo sbagliato per tanto, troppo tempo. Grayskull, la luce della quale ho tentato di servirmi, è lo strumento di un soldato, uno che combatte per volere altrui. Il caos è tutto! Dalle rovine di questo regno caduto, da dove i serpenti non riuscirono a mettere in ginocchio l'antica Eternia, Io inaugurerò un'epoca di fiamme e di strazio che benedirà l'era moderna e tutte le ere a venire con la purezza del caos! Il tempo di Grayskull è passato! Benvenuti nell'era di Skeleton! Per il potere di Grayskull! Per il potere di Grayskull! Ho nel potere! A me il 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 potere! Ah! A me il potere! Questi si che sono artigli forti! Wow! A me il potere! Sì, mi va ancora! Guardate che fa il mio! Guardate! Wow! Wow! Ah! Sai, nonostante tutto, mi ha dispiaciuto quando ti ho creduto morto. Mi chiedo se tuo padre mostrerà altrettanta debolezza. Quando getterò il tuo corpo ai suoi piedi, non coinvolgere mio padre! Forza della foldore! Forza del caos! E' divertente, non trovi? Resti sempre lo stesso ragazzino impaurito in cerca di uno scopo nella vita e della strada verso casa. Solo che lei non ti vuole nessuno. Ho ragione! Il castello di Grayskull è casa mia! Ero convinto anch'io di poterlo reclamare, ma era solo un mezzo per raggiungere un fine. Credevo che il potere di Grayskull fosse la via più rapida per assicurarmi il trono di Randor. Poi ho accolto il caos. Il potere di Grayskull è una menzogna. E' ora che anche tu lo capisca! E' ora che anche tu lo capisca! NON NON! 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 Unoh!